Musica Giorgio Assennato, direttore generale dell'ARPA, respinge categoricamente l'ipotesi del GIP di Taranto, Patrizia Todisco, di pressioni, oltre ogni ragionevole dubbio, esercitate su di lui per ammorbidire due anni fa una posizione intransigente sull'ILVA e va al contrattacco. Nell'ordinanza io ravviso oggettivamente persino delle ipotesi di reato, nonostante noi abbiamo fornito alla magistratura tarantina tutti e tre i custodi, in particolare la mia più stretta collaboratrice e la coordinatrice dei custodi, leggo che al di là di ogni ragionevole dubbio, la mia posizione si sarebbe ammorbidita dopo la fantomatica pressione del Presidente Vendola, questo è irricevibile. Non avrei mai, come la mia storia personale documenta, minimamente accettato, non si è verificata, secondo me è probabilmente un refuso e comunque comunicherò al Procuratore Sebastio che in quel testo si ravvisano delle ipotesi di reato al mio carico che evidentemente soltanto ricevendo un avviso di garanzia potrò chiarire come giustamente la situazione merita. Circa i rapporti con la Regione Puglia e con Ichi Vendola, a Senato, al quale l'anno scorso è stato rinnovato il mandato quinquennale di responsabile dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, ribadisce che in passato c'è stato solo un contrasto sul fotovoltaico in ambito rurale che poi si è sanato, nel senso che la Regione ha esattamente seguito i principi che erano nelle linee guida di Arpa Puglia. Vendola, ha detto ancora Senato, non mi ha mai chiesto di essere cauto sulle attività svolte dall'Ilva. Intanto sono almeno cinque, oltre a quelle indicate nell'ordinanza di custodia cautelare seguite ieri, le persone indagate nell'inchiesta sull'Ilva. Tra queste ci sono Don Marco Gerardo, il segretario dell'ex arcivescovo di Taranto, Monsignor Benigno Luigi Papa e il sindaco di Taranto, Ipazio Stefano. Il sacerdote è accusato di false dichiarazioni al pubblico ministero in relazione ad una presunta tangente di 10.000 euro che l'ex responsabile dei rapporti istituzionali dell'Ilva, Girolamo Archinà, arrestato ieri, avrebbe consegnato al consulente del Tribunale, nonché ex presidente del Politecnico di Taranto, Lorenzo Riberti, per addomesticare una perizia sulle fonti di inquinamento. Archinà aveva riferito agli inquirenti che quella somma prelevata dalla Cassa Viendale non era destinata a Liberti, ma si trattava di una elargizione alla curia tarantina. Il sindaco di Taranto invece è indagato per omissioni in atti d'ufficio in relazione alle prescrizioni a tutela dell'ambiente cittadino. La sua iscrizione nel registro degli indagati sarebbe un atto dovuto derivante dalla denuncia di un consigliere comunale, Filippo Condemi. La Procura della Repubblica di Taranto ha delegato la Guardia di Finanza ad eseguire accertamenti a Bari e Roma in relazione al Via Libera, alla vecchia autorizzazione integrata ambientale rilasciata il 4 agosto 2011 a Liberti Taranto, poi riessaminata e approvata alcune settimane fa. Nelle oltre 500 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare firmate dal GIP Patrizia Todisco ed eseguite ieri, numerose pagine contenenti anche intercettazioni, sono dedicate a dialoghi con funzionari regionali sulle prescrizioni ambientali che l'ILVA avrebbe dovuto rispettare, poi confluite nella vecchia aia. Grazie per la visione!